Ciao ragazzi, mio nome è Marco, sono italiano e vivo in Edinburgh, sono i miei sei anni negli Stati Uniti. Quindi vorrei share con voi la mia storia da un altro punto di vista. Un punto di vista di una persona che vive all'interno. Mi ricordo che l'ultima cosa normale che ho fatto più di due mesi fa era togliere cinesi e spendere l'avventura sotto la stessa piazza con i miei amici. Per la comunità italiana in Scotland, la situazione all'inizio era così incredibile. Tutti erano in contatto con la sua famiglia italiana e in Italia la situazione era già buona, specialmente nel nord dell'Italia. Era così incredibile e voleva vivere in un'altra dimensione, perché negli Stati Uniti apparentemente tutto era bene e la nostra routine era la stessa. e in Italia tutti erano in casa. Mi ricordo che c'era un momento in mia mente in cui ho iniziato a sentirsi assicurato, e da quel momento tutto cambiò. Era il 23 marzo di marzo, la parola di Boris Johnson. Ho iniziato a lavorare da casa per la prima volta nella mia vita e ho ricevuto costantemente supporto da i miei colleghi. Anche abbiamo avuto un incontro di video e ho avuto costantemente video con la mia famiglia e i miei amici qui in Scotlandia. Ho iniziato adattato a diversi tipi di vita normale. Ho avuto alcuni corsi online online, ho scritto nuove cani e ho avuto foto per riuscire le memorie in mia mente di questo periodo storico. Anche ho trovato i miei amici nuovi amici tramite il evento live live di Cure e ogni settembre ho chiamato i nostri eroi dell'NHS e ho avuto il mio primo annaccio di quarentena. Il momento più attenzionato era il discorso della Queen e il concerto del mondo chiamato «Stay at home together» da un'idea di Lady Gaga per riuscire i soldi per la pandemia. Sono sicuro che questo è un nuovo mondo con nuove regole a seguire e sono sicuro che torneremo più forte più forte da prima e poi non prenderremo mai qualcosa per favore. Grazie